Una buona serata dagli studi di ETV Mark e ben ritrovati alla seconda edizione del nostro telegiornale che voi come di consueto potete seguire in contemporanea e in diretta sul canale 12 del digitale terrestre e poi ovviamente anche sulla nostra app che si scarica in maniera gratuita dagli smartphone e dai tablet sul nostro sito www.etvmark.it sulla nostra pagina facebook cominciamo subito con le notizie e con la prima che interessa l'alluvione di settembre quella del 2022 perché come sapete lunedì sono iniziati i lavori nella zona di Borgo Bicchia verso il ponte dell'Arceviese lavori di manutenzione straordinaria del fiume Misa stamattina un annuncio della regione opere anche nell'entroterra del Senigalliese in particolare nella zona di Pianello di Ostra poi ci si concentrerà nel Pesarese partiti lunedì gli interventi di pulizia straordinaria del fiume Misa escavatori in azione sull'alveo per rimuovere detriti terra e ghiaia e risagomare le sponde macchinari specializzati per eliminare la vegetazione in eccesso quasi due chilometri di fluviale da bonificare per scongiurare lo spettro di nuove alluvioni devastanti il primo tratto in cui si concentrano gli operai è quello che va da Borgo Bicchia verso il ponte dell'Arceviese i lavori sono stati finanziati per 300 mila euro dalla regione guidati dal genio civile avranno durata di circa 60 giorni dunque con altri 300 mila euro già stanziati si procederà dal ponte verso la città di Senigallia alle mie spalle un escavatore che sta procedendo con le operazioni di pulizia straordinaria del fiume Misa naturalmente ostruito da alcuni tappi come puntualmente documentato dal comitato tra i due fiumi in tutti questi anni quella porzione di terra che sta rimuovendo in questo momento l'escavatore verrà utilizzata per rinforzare l'argine destro del fiume mentre tutta la restante fino a questi picchetti di colore blu alle mie spalle sarà rimossa e poi portata altrove questa la richiesta preeminente da parte dell'associazione che riunisce la stragrande maggioranza delle famiglie e delle imprese alluvionate portare via dal fiume terra e ghiaia che in previsione delle future piene del Misa verrebbero nuovamente spazzate via e successivamente sedimentate con il rischio di nuovi futuri tappi finalmente i lavori sono iniziati speriamo come si suol dire che sia la volta buona che soprattutto ci aspettiamo prima possibile di vedere camion di terra essere portati fuori dall'alveo perché l'alveo ha bisogno di aumentare la portata dell'acqua perché così l'acqua trabocca perché come abbiamo segnalato più volte non c'è più un alveo del fiume come anticipato dalla regione ad inizio settimana stamattina sono stati programmati altri due interventi nell'entroterra entrambi da 300 mila euro il primo tra il ponte di pianello di ostra verso monte il secondo dal ponte del coppetto verso valle dopo l'anconetano presto assicurato il governatore francesco acquaroli saranno delineati i lavori nel pesarese quella odierna è stata una giornata importante anche per quanto riguarda il ponte di pianello di ostra sto facendo riferimento al ponte del coppetto andiamo un attimo sul nostro sito perché la conferenza dei servizi convocata dal presidente della provincia di ancona daniele carnevali ha approvato il progetto del ponte del coppetto che collega i comuni di ostra e ostra vetere il nuovo manufatto che è stato progettato dall'ingegnere dezzi è in acciaio con impalcato sottile sostenuto dai tiranti collegati ai due archi laterali particolare attenzione è rivolta alla compatibilità del ponte con il delicato contesto di un territorio duramente colpito dall'alluvione dello scorso settembre come sapete e che aveva presentato delle criticità idrauliche stiamo vedendo anche alcune immagini per tale motivo l'attraversamento che ha una luce di circa 50 metri senza pile nell'alveo è rialzato rispetto ai livelli di piena che sono attesi sono arrivati gli interventi da parte di acquaroli da parte del vice commissario babini ma anche dello stesso carnevali ha detto sarà un'opera innovativa una soluzione che abbiamo voluto per eliminare le pile in alveo nonostante tutto abbiamo pensato alle piene con interventi cautelativi rispetto a quanto previsto dalle attuali normative carnevali ha fornito anche le tempistiche in relazione alle prossime fasi che vedranno al centro questa importante opera infrastrutturale entro settembre contiamo di avere il progetto esecutivo per poi procedere all'appalto dei lavori stessa tempistica è prevista per ciò che concerne l'approvazione del progetto esecutivo della ricostruzione del ponte sulla sp 18 a tre castelli questo un punto per quanto concerne l'alluvione e le infrastrutture adesso invece ci occupiamo di urbanistica con le parole di a guzzi in merito ad una nuova legge ci racconta di più andrea fiano ad oltre 30 anni dall'approvazione della legge regionale 34 del 1992 la giunta a quaroli ha adottato la proposta di legge norme della pianificazione per il governo del territorio che verrà presentata all'assemblea legislativa di settembre e una volta approvata entrerà in vigore dal primo gennaio 2024 l'atto si fonda su dieci pilastri e si articola per fasi successive tra loro in rapporto di stretta interdipendenza e connessione la pianificazione territoriale sarà attuata attraverso due strumenti distinti il piano paesaggistico regionale previa intesa con il ministero della cultura e il piano territoriale regionale il piano di assetto territoriale fondamentale della programmazione economica e delle politiche settoriali della regione a livello comunale la legge introduce invece una nuova forma del piano il piano urbanistico generale unico e il principio di coerenza della pianificazione urbanistica per quanto riguarda gli standard urbanistici e territoriali si prevedono possibili riduzioni per i comuni sotto i 3000 abitanti e per gestire le sempre più frequenti emergenze ambientali che hanno colpito e continuano a colpire l'intero territorio nazionale i piani territoriali provinciali possono prevedere criteri per la localizzazione degli spazi destinati alla protezione civile è una legge assolutamente innovativa prevede 36 articoli ed elimina otto altre leggi regionali che erano ormai tutte superate è tutta una nuova attività di pianificazione ad un anno dall'approvazione della legge urbanistica approveremo il piano paesaggistico regionale a sei mesi dall'approvazione del piano paesaggistico regionale ci sarà il piano territoriale regionale a sei mesi da quell'approvazione ci sarà il piano territoriale di coordinamento provinciale cioè quello che dovranno fare le province e a quel punto a due anni tutti i comuni delle Marche dovranno adottare i loro nuovi piani regolatori come dire un percorso che dura quattro anni ma in quattro anni tutto l'intero territorio regionale sarà rivisto secondo le nuove normative ci sarà una nuova completa pianificazione urbanistica per la nostra regione ci saranno aree diciamo non più previste urbanisticamente in maniera secca statica ma si saranno delle aree a vocazione di sviluppo sulle quali si potrà intervenire con molta più facilità quando ci sarà un'esigenza di fare nuove costruzioni o nuovi interventi sui territori punterà ovviamente al consumo di suolo zero o perlomeno il più vicino possibile al nuovo consumo di suolo sarà basata particolarmente sull'efficientamento energetico sul costruire sul costruito sulla rigenerazione urbana sulla perequazione urbanistica restiamo in regione ma ci occupiamo di sanità perché è stato approvato anche il piano operativo regionale 2023 sempre da parte della giunta Acquaroli per il recupero e il miglioramento delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali recovery e screening l'obiettivo spiega l'assessore alla salute Filippo Saltamartine il recupero delle prestazioni dal 2020 al 2023 entro il 31 dicembre 2023 e nasce dalla necessità di dare al più presto risposta ai cittadini in merito alle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza pandemica e dall'obbligo di rispettare i criteri previsti dal piano nazionale per il governo delle liste d'attesa a questo scopo sono stati stanziati fondi dedicati non aggiuntivi lo 0,3% del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard con cui concorre lo stato per l'anno 2023 che per la regione Marche è pari a oltre 9 milioni in particolare le risorse serviranno per recuperare oltre 52 mila prestazioni ambulatoriali oltre 50 mila prestazioni sempre di carattere sanitario oltre 8 mila ricoveri ospedalieri e oltre 36 mila attività di screening tutti i numeri li potete trovare aggiornati all'interno del nostro sito cambiamo argomento andiamo ad Ancona perché potrebbe è arrivare una nuova nave ONG la Humanity One che ad Ancona c'era già stata negli scorsi mesi l'annuncio oggi da parte del sindaco intanto lunedì si prepara un tavolo in prefettura a riguardo perché lo sbarco sembrerebbe imminente sentiamo potrebbe essere assegnata secondo le indicazioni che sono arrivate dalla prefettura la Humanity One con circa 80 immigrati non so se ci siano dei minori però insomma Ancona potrebbe essere uno dei punti di approdo se il governo dovesse decidere saremmo pronti all'accoglienza come abbiamo fatto recentemente Humanity One la nave di soccorso e salvataggio della ONG tedesca SOS Humanity potrebbe tornare ad Ancona questa mattina la Humanity ha messo in salvo oltre 80 naufraghi viaggiavano su un'imbarcazione di fortuna che stava per colare a picco l'equipaggio della Humanity li ha recuperati in acque internazionali non lontano dalla Libia da cui i naufraghi erano partiti poche ore prima nella notte ora queste 80 persone potrebbero arrivare ad Ancona per la Humanity sarebbe il secondo sbarco dopo quello dello scorso 15 luglio quando la nave della ONG tedesca entrò nel porto d'Orico con a bordo 200 migranti nel caso l'arrivo venisse confermato ha spiegato il sindaco la città sarà pronta tutti i dettagli arriveranno però solo lunedì lunedì mattina è stato convocato per lunedì mattina dal prefetto il tavolo di sicurezza pubblica quindi avremo sicuramente per quella data gli elementi più certi e a quel tavolo poi decideremo il da farsi apriamo la pagina di cronaca si avvalevano di società costituite ad hoc per fornire mano d'opera anche a cantieri navali di Ancona e Taranto nel frattempo dirottavano i ricavi su correnti a Praga eludendo qualunque forma di riscossione accumulata a causa dei debiti con il fisco l'indagine della Guardia di Finanza di Bologna ha portato al divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale di responsabile legale o amministratore di qualsiasi ufficio direttivo a carico di due imprenditori oltre al sequestro preventivo per un valore di oltre 400 mila euro l'inchiesta coinvolge complessivamente 20 società legate a persone gravate da precedenti con la giustizia secondo le ricostruzioni queste ultime hanno amministrato le aziende percependo in maniera indebita risorse pubbliche stanziate con l'emergenza covid senza però dichiarare il reddito al fisco sequestrati i proventi dell'indebita percezione e dell'omesso versamento di IVA tramite una società gli indagati avrebbero percepito nel 2021 contributi covid pari a circa 50 mila euro ma in realtà utilizzati per fini personali parliamo di cultura Sgarbi poco fa prima a Pesaro per l'inaugurazione del Rossini Opera Festival ha detto una manifestazione delle più importanti per quanto riguarda la lirica in ambito internazionale poi si è trasferito ad Ancona ha visitato i principali luoghi d'arte e ha detto la città capisca se vuole diventare una città capitale della cultura oggi ad Ancona è stato il giorno del sottosegretario Vittorio Sgarbi oggi pomeriggio ha visitato la chiesa di San Domenico riaperta da soli due giorni grazie a un finanziamento di 40 mila euro per la messa in sicurezza ma arriveranno altri milioni per la ristrutturazione e poi la Pinacoteca, i sotterrani che hanno bisogno di avere nuova vita e infine la Mole dove verranno allestite anche nuove mostre Sottosegretario di nuovo ad Ancona un rapporto di amore e odio con questa città adesso in che fase è? Beh l'odio non c'è mai stato ma c'era una città strana diciamo nella quale ogni attività culturale sembrava impermeabile alla città e la città ad essa con la vittoria del centrodestra e l'attuale sindaco abbiamo ipotizzato una serie di mostre che potrebbero senza fatica partire già in inverno con i dipinti del museo che io presiedo che è il primo museo di arte contemporanea, modelle contemporanea d'Italia che è il Martino Vedetto con una mostra dal futurismo all'informale e da qui andare avanti con una serie di iniziative che riguardano artisti marchigiani e anche Anconetani come Gino De Dominicis, poi un altro artista meraviglioso e fantasioso che è nato a pedaso ma comunque marchigiano che è Serafini e poi come è uscito sui giornali come avete visto finalmente nel 25 direi la mostra sul rinascimento adriatico per questo occorre anche non solo restituire le chiese all'apertura ordinaria anche in inverno con i capolavori che hanno da Gentileschi a Tiziano a Lorenzo Lotto ma anche vedere il funzionamento di un museo che come ricorda l'assessore è inemorabile per non avere un catalogo, un museo senza catalogo non c'è neanche a Matelica non c'è un posto dove non c'è a Recanati per cui evidentemente c'è stata una distrazione forse buoni direttori anche hanno lavorato oggi varrò a posto per vedere fare un sopralluogo alla Pinacoteca e farla ritornare al luogo dove ci sono capolavori di Crivelli capolavori di Tiziano, di Lotto per quello che ricordo e farla diventare la Pinacoteca di una grande città come deve essere quindi l'amore e l'odio non esistono esiste una considerazione di una regione di grande civiltà e di grande bellezza con un turismo fortunatamente anche sofisticato che si è accesa come dice il plurale della sua denominazione Marche e poi lentamente è sembrato che qualcosa fosse sia dissolto ad Ancona per cui ricostituirlo è una legittima resurrezione credo che la città lo meriti Dal servizio della nostra Laura Meda al servizio di Roberto Propersi da Ancona a Macerata vediamo come si sta preparando anche in termini di cultura la città per il lungo weekend di Ferragosto La città è davvero aperta, accogliente con delle professionalità e tanti lavoratori che sono pronti ad accogliere proprio i turisti Macerata è pronta ad accogliere i turisti ferragostiani la città definita da sempre l'Atene delle Marche si sta sempre più popolando di visitatori nel periodo Clou dell'estate 2023 ed il suo patrimonio artistico-culturale la riconferma una tra le destinazioni turistiche più ambite Noi abbiamo dei giovani ragazzi preparati, formati che conoscono le lingue qui all'interno di Palazzo Bonaccorsi e che anche il giorno di Ferragosto saranno qui ad accogliere i turisti che vorranno visitare la nostra città sono in aumento i turisti stranieri che vengono soprattutto dall'Europa o dal nord Italia Turisti in aumento che potranno ammirare le bellezze della città dallo sferisterio alla torre dell'orologio dalla biblioteca Mozzi Borgetti ai vari musei Per ora i feedback che abbiamo sono tutti positivi sono tutti ben disposti soprattutto certificano la qualità del lavoro la qualità dell'offerta culturale che la città mette a disposizione e anche la disponibilità un orario prolungato con l'apertura anche nell'ora di pranzo quindi per accoglierli anche nei momenti più caldi l'apertura del sabato mattina della biblioteca sono piccole novità che comunque ci permettono di intercettare e di andare, di accogliere e di offrire un servizio Tra le novità che ci ha presentato l'assessore Cassetta anche le nuove guide turistiche della città sei nuovi opuscoli tre sono dedicati a Palazzo Bonaccorsi il piano arte antica, l'arte contemporanea e il museo della carrozza poi biblioteca Mozzi Borgetti l'ecomuseo di Villa Ficana e il museo di storia naturale queste le proposte sul fronte maceratese vi mostro anche una notizia che si lega al turismo bisognerà attendere ancora un po' per i voli di continuità territoriale sto facendo riferimento alle rotte per Roma, Napoli e Milano ma di fatto oggi è arrivata la notizia dal primo ottobre Aeroitalia aprirà le tre nuove rotte domestiche dall'aeroporto internazionale di Ancona verso Milano-Linate, Napoli e Roma i voli giornalieri fanno sapere dalla compagnia aerea la regione Marche ma anche l'Ancona International Airport sono già in vendita nei sistemi della compagnia saranno operati con aeromobili ATR 72 600 da 68 posti e in grado di garantire trasferimenti rapidi e confortevoli con questa operazione Aeroitalia è lieta di ampliare la propria offerta di voli nazionali collegando questa splendida regione alle nuove destinazioni questo dal primo ottobre, dal 15 settembre si partirà verso Bucharest, verso Barcellona ma anche verso Vienna e poi c'è in programma anche Amsterdam dal nostro aeroporto marchigiano chiudiamo con questa bella news perché i lavori dell'ABF Hub Educativo di Sporza Costa di Macerata sono indirittura d'arrivo la nuova scuola dell'infanzia è quasi realtà questa mattina si è svolto un sopralluogo con il vicepresidente Veronica Berti e il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli la visita ha riguardato il primo lotto del lab in cui la fondazione di Andrea Bocelli sta costruendo una nuova scuola il secondo lotto che invece partirà nel corso del 2024 prevede la riqualificazione della scuola primaria già esistente degli spazi all'aperto adiacenti le due scuole i lavori procedono veloci grazie alle maestranze sul campo che lavorano con impegno e passione le fondamenta della scuola sono state gettate ad inizio luglio e dopo aver alzato le pareti nelle ultime settimane si sta lavorando al tetto la consegna è prevista entro la fine dell'anno e questa era anche la nostra ultima notizia ma vi ricordo che tutte le news e le video news come sempre le potete trovare pubblicate e aggiornate in tempo reale sul nostro sito www.etvmarche.it sulla nostra app sulla nostra pagina facebook grazie per l'attenzione l'augurio di una buona serata di un buon fine settimana perché no in compagnia dei nostri programmi arrivederci